E adesso aspettiamo la centrifuga. Grazie a tutti. Parte subito a 800 giri, per pochissimi secondi, si ferma, torna a girare, dopo arriva di 1.800 per poi arrivare a 1.000 passa. Ho messo un po' troppo poca roba, quindi un po' scilla. Però vedi com'è resistente e forte. Adesso torna a girare. Grazie. Ecco, adesso arriva a 800 giri subito. Adesso, come vedete, è molto più resistente. Grazie.